allora buon pomeriggio ben trovati a tutti coloro che sono collegati con noi anche oggi per seguire il webinar che abbiamo organizzato per questa settimana chi ci segue sa che questa attività è iniziata un po sull'onda naturalmente delle esigenze delle esigenze del covid rispetto al quale quindi stiamo fornendo degli aggiornamenti su quelle che sono le novità normative purtroppo che derivano da questa pandemia ne abbiamo approfittato anche in altre occasioni per fornire degli approfondimenti tematici su dei temi che in questo momento ci sembrano possano essere di maggior interesse vi segnalo fin da subito che nella prossima settimana avremo due altri incontri il primo è martedì 28 sui temi legati all'e commerce evidentemente una modalità di raggiungere clientela e sta cominciando a interessare qualcuno in un modo più importante quindi faremo una ricognizione sia di temi strategici che legali e fiscali su questa modalità di vendita e poi giovedì 30 parleremo invece di mercati finanziari e delle tematiche connesse in questo momento alla lettura del mercato finanziario alla luce della crisi vi segnalo anche fin da subito naturalmente che se intravedeste degli argomenti sui quali vi piacerebbe avere degli approfondimenti ben volentieri naturalmente siamo a disposizione per ricevere dei suggerimenti e capire se possono essere eventi da da diffondere allora di cosa parliamo oggi e perché oggi un evento sul bilancio è stagione di bilanci quindi indubbiamente come dire è il momento giusto ma è soprattutto un momento di tante prime volte chi redige il bilancio operativamente e gli amministratori che ne hanno la piena responsabilità ricordo che il bilancio non è oggetto di delega l'ultimo all'ultimo consigliere risponde dei contenuti delle valutazioni e della struttura del bilancio dicevo è una prima volta per molte per molte situazioni cioè la situazione cobit ha portato all'attenzione lo sta portando per chi segue quotidianamente le riviste specializzate alcuni principi di valutazione attorno ai quali per fortuna la maggior parte delle aziende sane non si sono mai sperimentate c'è il tema della del principio della continuità c'è il tema dei fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio che sono due situazioni espressamente disciplinate e che quindi oggi vedremo nel mio primo intervento che cosa vogliono dire operativamente c'è poi un tema che verrà sviluppato di seguito dalla collega francesca pasqualini legato al fatto che le responsabilità degli amministratori si accompagnano naturalmente alle responsabilità degli organi di controllo quindi abbiamo in questo momento e qualcuno già se ne è accorto revisori e sindaci col fiato sul collo per chiedere il rispetto di alcune disposizioni specifiche previste in fasi come queste sempre per gli amministratori c'è la necessità di fare fuoco mettere a fuoco alcuni specifici doveri legati alle modalità con cui verranno tenute l'assemblea legate al tipo di comportamenti da adottare in presenza di perdite informazione come probabilmente l'esercizio 2020 determinerà rispetto al fatto poi in aggiunta che ci sono alcuni provvedimenti legati ai finanziamenti soci in generale al patrimonio netto che sono stati oggetto di interventi in questi in questi interventi normativi e sui quali quindi un breve commento chiuderemo con e di questo parlerà l'avvocato carraro se non l'ho detto chiuderà angelo bozza che è del nostro ufficio di milano angelo ci parlerà invece dei temi come dire ancor più di confine nell'ambito del bilancio ci sono reatti connessi a tematiche valutative sui quali è opportuno in questo momento fare un ripasso così come opportuno focalizzare il fatto che l'accesso ai finanziamenti in qualche modo agevolati che in questa fase sono stati messi in campo va sempre accompagnato da grande prudenza rispetto alle attestazioni che vengono rilasciate io poi prenderò la parola alla fine per un saluto finale quindi introduco io il tema legato alle alle questioni più squisitamente bilancistiche e comincio col dirvi che cosa allora abbiamo bilancio 19 pronto il fascicolo qualcuno l'avrà già approvato beato lui e magari anche depositato diciamo che normalmente il 29 aprile sarebbe stato quest'anno la data ultima entro la quale le assemblee ordinarie erano chiamate all'approvazione del bilancio con il primo decreto con il cura italia è stato consentito di e sono stati aggiunti 60 giorni quindi è stato consentito anche alle società che non redigono il bilancio consolidato o non hanno speciali situazioni organizzative di accedere al maggior termine di 60 giorni perché è stato dato questo termine evidentemente per tener conto che c'erano problemi di mobilità che gli uffici amministrativi avevano una serie di difficoltà ma anche perché come dire un po più tempo era necessario per la predisposizione dei conti quindi sintesi e ne vedremo immediatamente però le ricadute sia in una prospettiva positiva che negativa è chiaro che chi ha già fatto il consiglio di amministrazione per approvare il bilancio ha già convocato l'assemblea e sta andando in approvazione in qualche modo rispetto al fenomeno covid ha un set informativo che è quello che conosciamo più o meno tutti oggi chi da qui in poi avrà altri 60 giorni naturalmente potrebbe acquisire e intendo a riferirmi agli impatti che il covid potrà avere sui conti della società una serie di maggiori informazioni adesso vedremo perché questo maggior set informativo può comportare dal punto di vista del bilancio alcune conseguenze c'è un principio contabile e c'è nel nostro codice civile una specifica disposizione che si riferisce ai cosiddetti fatti successivi alla chiusura dell'esercizio ovvero faccio riferimento per semplicità al bilancio 19 è vero che ho chiuso il bilancio ma il redattore del bilancio non è esente dal vedere che cosa succede fino alla data di approvazione allora questi fatti intervenuti dopo la chiusura anche qui in maniera speculare con quello che ho appena rappresentato è chiaro che i fatti intervenuti fino al 29 aprile saranno di meno rispetto ai fatti informativi ai fatti scusate intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e cosa dice il principio contabile 29 suddivide questi fatti in tre categorie la prima sono alcuni eventi che richiedono di mettere mano al bilancio del 2019 lo contestualizzo specificatamente e quali sono sono eventi che già erano presenti al 31 dicembre di cui io in qualche modo ho avuto piena contezza nel nel periodo successivo o poi dei fatti che invece subentrano successivi i quali indicano situazioni sorte dopo il 31 dicembre e dei quali quindi io non ho necessità di modificare il bilancio ma ho un obbligo di disclosure informativa estremamente ampia in nota integrativa ho infine una terza categoria di fatti successivi che sono quelli più gravi cioè quelli che mettono in discussione il cosiddetto presupposto della continuità il presupposto della continuità è uno dei postulati fondamentali si dice del bilancio cioè al redattore del bilancio se ha una prospettiva di continuità applica alcuni principi di valutazione se ha una prospettiva di andare a chiudere usa criteri completamente diversi allora i fatti successivi si dividono in queste tre categorie cosa dice il principio contabile 11 sul tema della continuità il tema della continuità viene definito come capacità dell'impresa di funzionare in un arco temporale previsionale di almeno 12 mesi io devo avere la capacità di capire cosa mi succede da qui a 12 mesi e se la mia azienda funzionerà regolarmente in questi 12 mesi se io soddisfo questo verifica posso dire di essere in continuità e quindi posso applicare il principio della continuità se io ho delle incertezze mi scattano delle forme di tutela valutative allora che cosa succede che il principio contabile 29 parlando di continuità mi osserva ci possono essere delle condizioni gestionali come dei peggioramenti di risultati di gestione dei peggioramenti della posizione finanziaria e possono far concretamente venire il dubbio che la continuità sia messa in discussione facile vedere che gli eventi covide di questi giorni assomigliano molto a questo tipologie di eventi cioè fanno pensare ad eventi che mettono in discussione la continuità se noi prendiamo il principio contabile invece scusate principio di revisione isa 570 il principio di revisione utilizzato per la valutazione della continuità da parte appunto del dei soggetti incaricati della revisione contabile vengono forniti vengono fornite degli esempi di circostanze che danno anche in questo caso misura di un punto di domanda sulla continuità e senza che leggiamo nel momento in cui ho una serie di indicatori finanziari che mi vanno a peggionare una serie di indicatori gestionali che mi mostrano un quadro in deterioramento io un dubbio sulla continuità ce l'ho allora se ho un dubbio sulla continuità il tema è si è verificato all'esito del covi un fatto successivo a chiusura dell'esercizio si è un fatto che mi mette in discussione la continuità nel senso che ve ne sono vi sono degli indizi vuol dire che io devo modificare i miei criteri di valutativa valutativi e far venir meno la continuità no perché interviene in questo momento il decreto liquidità con questo articolo 7 che mi offre un ancora di salvataggio in questa fase cosa dice questo articolo 7 dice per i bilanci chiusi al 31 12 19 non ancora approvati alla data del 23 febbraio per i da per i bilanci che chiuderanno al 31 12 2020 ti consento di valutare le voci nella prospettiva della continuità cioè ancor che tu verifichi che si sono verificati degli eventi che la continuità la mettono in discussione io ti permetto preso atto che si tratta di un evento di particolare straordinarietà di non condizionare la tua redazione di bilancio a questo evento così straordinario ma di proseguire con normali criteri di valutazione chi può avvalersi oggi di questa opportunità chi certamente ha ripeto un bilancio 31 12 19 che magari andrà ad approvare a giugno chi nel bilancio 20 quindi ne riparleremo oggi qui vedete escluso il bilancio a cavallo c'è un colore diverso perché la norma è stata scritta un po male ma non ci attardiamo su questo si confira che in sede di conversione del decreto venga un po sistemata perché per come è scritta sembrerebbe che chi ha il bilancio a cavallo in questo momento non possa accedere a questa situazione quindi decreto di liquidità mi offre una via di uscita sostanziale rispetto al fatto di dover mettere mano ai conti 19 legati a un problema di continuità vale per tutti quindi questa deroga perché a tutti gli effetti una deroga è una facoltà quella che viene offerta io potrei avere dei bilanci chiusi al 31 12 19 dove appunto non ho problemi subentrano oggi dei problemi covi ne prendo atto ma non mi preoccupo quindi io certamente non modifico il mio bilancio sostanzialmente nei conti 2019 ben diverso però e lo sottolineo sperando che sia un caso limitato molti hanno commentato finora attenzione la norma è pensata per chi già stava bene se qualcuno già al 31 12 19 a prescindere dal covi aveva un problema di continuità io non riesco a prolungare la mia crisi che avrei già dovuto conclamata avrei già dovuto riflettere il covi della sta semplicemente mi sta probabilmente possa coprendo la fossa direttamente ma avrei già dovuto tenerne conto quindi io amministratore se ho già una posizione di crisi conclamata di continuità al 31 dicembre io non posso avalermi di questo per rallentare la mia dichiarazione allora nella maggior parte dei casi ripeto io il bilancio 19 non lo tocco io il tema della continuità riesco a sterilizzarlo ma dove certamente quest'anno dovrò fare uno sforzo è in nota integrativa perché la nota integrativa così come richiede l'articolo 24 27 dice mi rappresenti natura effetti patrimoniali economici e finanziari dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio qui è molto chiaro che su questo argomento io quest'anno dovrò spendermi so che a nessuno piace scrivere in nota integrativa a nessuno piace scrivere relazioni sulla gestione di solito è ci pensa il mio commercialista ci pensa il mio consulente vi ricordo che la responsabilità è degli amministratori quest'anno la trasparenza su questi elementi informativi sarà molto importante perché in prospettiva la lettura di questi bilanci fatti una chiave retrospettiva in avanti quando passerà del tempo sarà estremamente importante allora che cosa succederà che chi chiude il bilancio a tra una settimana probabilmente di questo quadro congiunturale da covi potrà accontentarsi di scrivere poco chi va a giugno a due mesi in più quindi io immagino che non possa scrivere le stesse cose di chi chiude il bilancio la settimana prossima a due mesi in più dovrà fornire delle informazioni più chi ha un bilancio infranuale addirittura a tema non si pone nemmeno un problema di fatti dopo la chiusura o meglio chi avesse chiudono so bilancio a marzo si troverà sia degli effetti che già avvenuti dentro l'esercizio sia dei fatti successivi quindi avrà entrambi i problemi attenzione però che questo tipo di informazioni appena detto nel momento in cui io come amministratore ritengo che i fatti cobit mi stiano producendo delle significative incertezze sulla mia continuità è vero che io godo di questa sterilizzazione ma in nota integrativa le informazioni che devo fornire sono cogenti devo spiegare quali sono i fattori di rischio che ho intercettato devo dire quali sono le assunzioni che sto facendo e come e come immagino che voleva la situazione quali sono le incertezze che ritengo si manifesteranno sui crediti sul magazzino sulle mie partecipate devo spiegare quali sono i miei piani aziendali futuri cioè quando io sono colpito dal cobit in maniera importante è vero che posso parcheggiare la continuità ma è vero che ho degli obblighi informativi estremamente precisi e lo capirete e già qualcuno lo sta sperimentando con collegi sindacali con società di revisione allora ho preso a prestito questo dalla nostra fondazione nazionale che dice e per chiudere su questo sperando che sia chiaro io ho un bilancio e ho presupposto di continuità non ho incertezze cioè il cobit si mi sta facendo del male ma ritengo di spangarla sono nel farmaceutico sono nella grande distribuzione alimentare sono benissimo cosa scriverò in nota integrativa dirò che c'è il cobit punto ho qualche incertezza questa incertezza oic 11 mi dice me la descrivi mi spieghi le misure mi dai qualche cosa di più completo non tocco il bilancio 19 ma certamente da una informativa più strutturata o assenza di continuità invece cioè io ritengo di avere una serie di incertezze e ho dei grandi punti di domanda se io arrivo al 31 12 a causa del cobit io in nota integrativa scrivo tutte le cose di prima cioè spiego bene dico che mi avvalgo del concetto di continuità che mi ha dato il decreto liquidità sotto un profilo valutativo e specifico in nota integrativa che mi sto avvalendo di questa deroga cioè che ho delle incertezze ma non di meno approfitto del profitto l'ho capito in che termini approfitto dello spazio che mi viene offerto dal dal provvedimento o in basso a destra un'assenza di presupposto di continuità che non c'entra niente col covi è l'esempio di prima se io già al 31 12 19 avevo i miei problemi non posso ed è molto rischioso farlo pensare di inserirmi nell'onda del covi per mettermi insieme insieme al greggio e sperare di farla franca perché io qui avevo già degli obblighi ben precisi di modificare i miei criteri di valutazione e di uscire con un bilancio diverso sulla relazione sulla gestione quindi detto della nota integrativa sulla relazione della sua gestione ricordato che un documento che non viene approvato dall'assemblea ma non di meno ne correda in modo importante l'illustrazione e ricordate una cosa a me molto cara e in questo momento documenti di questo tipo redatti con trasparenza e con un certo tipo di completezza di informazioni servono a preservare certi valori dell'azienda e a preservarne certe certe caratteristiche che possono tornare utili in un momento successivo in relazione sulla gestione volevo solo ricordarvi che molte delle cose chieste rischi e incertezzi cui la società esposta indicatori di risultato finanziari non finanziari le informazioni sull'ambiente e sul personale pensate quante cose ci saranno da dire quella che è l'evoluzione prevedibile sulla gestione e quelli che sono i rischi di credito di liquidità di variazione flussi finanziari sono tutti argomenti che vi sono sempre stati ma che quest'anno e specificatamente per chi andrà a 180 giorni c'è da tendersi una maggiore enfasi una maggior cura cosa diremo invece sui criteri di funzionamento e di valutazione bilancio 19 abbiamo detto criteri di funzionamento cioè il bilancio come lo abbiamo chiuso per la larga parte delle aziende e quello è quello rimane chi ha un bilancio a cavallo evidentemente avrà un pezzo di esercizio dove trascinerà dentro il covi chi ha il bilancio chi ha confidando tutti di fare il bilancio 20 20 evidentemente ragioneremo di un effetto covi in tutto l'anno lo anticipo solo ma certamente ci torneremo saranno tante le voci ahimè sulle quali ci rieserciteremo su alcuni principi di valutazione che sono molto molto precisi si presenti sia nel nostro codice civile e sia nel nel sia nei principi contabili quindi avrò tutto un problema di perdita di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali abbiamo già discusso abbiamo fatto un webinar sull'imperment per ricordare come in queste situazioni io dovrei domandarmi la recuperabilità di certe immobilizzazioni sulle partecipazioni devo devo stimare i benefici futuri altrimenti ahimè ci sono obblighi di svalutazione sui crediti commerciali eh sapete presumibile realizzo quindi eh si può immaginare come questo principio sarà applicato nel duemilaventi sul magazzino anche qui il valore di realizzo determinerà in qualche modo degli obblighi di svalutazione su tutto il mondo delle imposte anticipate o io ho delle certezze di recuperabilità altrimenti potrei non iscrivermi di attività ehm sarà un bilancio venti venti eh complicato io oggi per chi sta approcciando la chiusura di un bilancio infranuale o il bilancio venti venti che cosa realisticamente in questo momento ha a disposizione la rivalutazione che che è consentita ma è a pagamento io forse in questo momento non so se la farei perché dovrei immaginarmi che tra le misure di sostegno verosimilmente potrebbe essere reintrodotta anche senza eh validità civilistica potrei stimare dei minori ammortamenti anche se il principio contabile sui minori ammortamenti mi richiede una sorta di definitività e non semplicemente un elemento congiunturale potrei scrivere fiscante anticipata nel momento in cui sono in grado di prevedere però il futuro in questo momento sono molto in pochi piuttosto che crediti d'imposta se già c'erano penso all'anno scorso ancora superi per ammortamento o crediti d'imposta ricerca sviluppo già c'erano continuano ad essere presenti e anche qui c'è da attendersi che verranno eh potenziati ehm cosa verrà invece giusto un accendio no perché se ne parla tanto in questi giorni e e li anticipo brevemente cosa possiamo attenderci eh di sostegno sul bilancio quello che è stato fatto finora sulla liquidità ed è chiaro a tutti sul bilancio certamente non ci dà una mano come pure spostare la continuità non sta aiutando il bilancio sta semplicemente congelando un problema ci si aspetta incentivi alla capitalizzazione quindi una superace il metto soldi eh dell'imprenditore all'interno dell'azienda e riconosco rendimenti però seri non cose a eh da 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 non dei gettoni ma degli incentivi veramente importanti eh qualcuno parla di poter scomputare in anticipo delle perdite fiscali questa è lo scari back delle perdite lo spostare dei termini fiscali che finora è avvenuto un po' a a piccoli passi molti augurano si augurano che anziché darci liquidità per pagare le imposte si spostino semplicemente i termini che ci siano e ne aspettiamo di importanti degli incentivi fiscali agli investimenti eh importanti che venga allargata la monetizzazione delle imposte anticipate per chi le ha sia legandole alle perdite sia legandole all'accessione di crediti deteriorati ma anche operazioni più strutturali quindi degli incentivi a operazioni straordinarie degli incentivi a delle rivalutazioni anche solo civilistiche tema importante non escludo che in alcune situazioni io possa per risolvere problemi di patrimonio netto mettere in piedi delle operazioni di conferimento eccetera andare a valorizzare avviamenti ed intangibili e questo a condizione che io questi avviamenti questi intangibili questo mio valore l'abbia preservato se l'ho rappresentato bene anche nei documenti di bilancio e mi sono applicato ma non ho dubbi in questo periodo per salvaguardarlo questo può diventare più facile piuttosto che forme di cartolierizzazione di abbandono di bad company e via dicendo ma insomma tutte cose credo che nei prossimi mesi ehm non ci annoieremo allora io ho concluso il mio intervento io adesso passo la parola invece a Francesca Pasqualini la quale vedrà la prospettiva del di quello che organi il controllo revisori sindaci in queste settimane in questi mesi chiederanno agli amministratori nel loro ruolo di controllori noi poi ci salutiamo alla fine buon proseguimento e grazie bene buongiorno buongiorno a tutti scusate ecco allora se ho l'ok dalla regia mi avvio a iniziare anche la mia la mia presentazione sembra tutto sembra tutto ok bene buongiorno io appunto come anticipava il il collega del dottor De Muri avrò il compito di rappresentarvi quello che è il rapporto con gli organi di controllo legale contabile in emergenza covid quindi eh andremo sostanzialmente a valutare a capire quali sono le richieste che sindaci e revisori ci possono appunto eh fare in in questo determinato periodo partendo dal revisore allora sostanzialmente ehm nei confronti del revisore noi dovremo supportare il revisore affinché eh raggiunga i suoi obiettivi ovvero affinché acquisisca una ragionevole sicurezza che il bilancio di esercizio non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali e eh lo dovremo supportare al fine che eh emetta una relazione di revisione contenente il giudizio sul bilancio che possibilmente eh dovrà essere un giudizio senza rilievi o richiami eh di informativa quindi andiamo a chiederci quali sono gli aspetti e i punti di attenzione che vengono valutati dal revisore nell'attuale contesto di criticità eh li ho ripilogati in tre punti il primo sicuramente sono le limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione un altro aspetto concerne l'analisi dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e ancora eh un ulteriore aspetto sono le possibili incertezze in merito alla continuità aziendale quindi andando ad analizzare il primo aspetto ovvero le limitazioni il revisore in questa eh situazione di restrizioni che il governo ci ha imposto valuta eh deve valutare se sussistono delle limitazioni significative all'ottenimento della documentazione necessaria a svolgere la propria attività limitazioni che possono consistere banalmente nella difficoltà del personale amministrativo a raggiungere gli uffici e quindi eh a chiudere i bilanci un'ulteriore limitazione può essere rappresentata dalla bancata disponibilità dei bilanci delle partecipate delle partecipate estere e delle relazioni predisposte da altri revisori o ancora un'impossibilità svolgere procedure di conformità sul sistema di controllo interno ehm e in ultima eh direi anche una mancata risposta alle procedure di circolarizzazione ovviamente la conseguenza di queste limitazioni quali sono quali possono essere le conseguenze sicuramente ehm la società dovrà essere in grado di supportare al massimo il revisore per rendere disponibile tutte le informazioni e tutta la documentazione necessarie per consentire di svolgere e di concludere le proprie attività eh di audit e di revisione e quindi è eh immaginabile che sostanzialmente come sta avvenendo anche in molti casi eh si propenda per un un rinvio dei termini di approvazione del bilancio ai 180 giorni. L'altro aspetto che il revisore valuta sono i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e il covid-19 è come ha già anticipato il collega dottor Nemuri è un evento classificabile nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento di bilancio e quindi ci dobbiamo chiedere eh in corrispondenza appunto di questo evento il revisore sostanzialmente ci può chiedere di modificare le valutazioni e i dati del bilancio duemiladiciannove e anche qui come diceva appunto anche il dottor Nemuri assolutamente no le valutazioni e i dati di bilancio non vengono modificati quello su diciamo il particolare la cosa su cui invece gli revisori pongono particolare attenzione è l'appropriatezza delle analisi in termini di informativa sugli eventi successivi che eh sono da fornire in nota integrativa chiederanno altresì ovviamente una dettagliata illustrazione dei rischi nella relazione eh sulla sulla gestione quindi ehm in merito poi al al terzo aspetto ovvero all'incertezza sulla continuità aziendale allora dobbiamo ricordare che il revisore ha la responsabilità di valutare l'adeguatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità da parte della direzione aziendale in questo caso come diceva appunto prima il dottor Nemuri nel caso in cui il bilancio chiuso a 31 12 2009 non abbia evidenziato problematiche eh l'evento covid non fa modificare diciamo il non fa venire meno il presupposto della continuità aziendale ma sicuramente può in molti casi determinare eh elementi diciamo fare emergere elementi di incertezza significativa sulla continuità elementi di incertezza che eh richiederanno ai revisori quindi di svolgere delle procedure di revisione aggiuntive come previsto dal specifico principio di revisione ISA 570 e quali sono queste procedure aggiuntive quindi cosa ci aspettiamo che i revisori ci chiedano al fine dello svolgimento di queste procedure sicuramente ci verrà chiesto di effettuare una valutazione sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare quindi di elaborare dei piani dei piani di azioni futuri che i divisori vanno a valutare vanno a loro volta a valutare l'attendibilità e l'attuabilità di questi piani che vengono messi a disposizione dalla società e ancora effettueranno delle valutazioni sulla pendibilità dei dati utilizzati per la previsione dei flussi di cassa e delle assunzioni sottostanti oltre che a richiedere eh delle attestazioni scritte alla direzione in merito ai piani di azioni futuri e la loro fattibilità è chiaro che tutte queste richieste saranno sempre più incalzanti ovviamente saranno sempre maggiori e acquisiranno maggior elievo in caso di approvazione di bilanci ai 180 giorni o addirittura nel caso di bilanci chiusi a cavallo d'anno questo perché ovviamente più avanti cambiamo con con il tempo più sarà chiaro saranno chiari gli effetti che purtroppo questo fenomeno covid ha generato e genererà nella gestione e nel futuro delle delle società quindi al termine della della propria attività il revisore quindi emetterà un giudizio sul sul bilancio ho inserito questa slide che riporta sostanzialmente tutte le varie tipologie di giudizio non sto sicuramente a tediarvi e andare per andare a esaminare i vari vari giudizi eh mi soffermerei forse al caso che mi sta cioè che sto vedendo più ricorrente e dalle prime approvazioni dei bilanci eh quindi 180 giorni eh il caso in cui quindi ci siano elementi di incertezza derivanti dall'effetto covid che la società descrive chiaramente in nota integrativa allora in questo caso il revisore è aspicabile eh appunto aspettarsi un giudizio clean senza rilievi eh ma con un richiamo di informativa richiamo di informativa non è praticamente si sostanzia in un richiamo d'enfasi su quanto la nota integrativa riporta circa eh sostanzialmente gli elementi di incertezza sui relativi appunto eh derivanti dall'effetto covid e dalle misure che la società ha posto in essere per 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 farvi fronte quindi richiamano quanto indicato in nota integrativa senza ripeto andare a inficiare il giudizio positivo dei eh sulla rappresentazione corretta e veritiera espressa in bilancio eh potremmo aspettarci eh in merito alle lettere di attestazione che il revisore quest'anno quando ci fa sottoscrivere le lettere di attestazione inserisca un paragrafo un paragrafo in cui richiede alla direzione di confermare di aver effettuato l'analisi degli impatti correnti e potenziali futuri del covid e di aver considerato l'esito di questa analisi nelle valutazioni effettuate con riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio aver riflesso gli esiti di quest'analisi appunto nell'informativa in bilancio quindi in nota integrativa in relazione sulla gestione ed aver fornito tutte le informazioni rilevanti su questo aspetto eh appunto al eh al revisore. Eh breve parentesi sui revisori e sulle SRL eh solo per ricordarvi che come previsto dal nuovo duemila articolo duemila quattrocentosottantasette del codice civile le SRL oggi sono tenute a nominare un revisore ma la norma parla anche di organo di controllo quindi di sindaco unico o di ehm collegio sindacale non solo nei casi in cui la SRL sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale di conti ma altresì e questa è la novità quando ha superato per due esercizi consecutivi anche uno solo dei limiti eh seguenti ovvero ricavi maggiore di quattro milioni o attivo maggiore di quattro milioni o una media di venti dipendenti. La scadenza del termine inizialmente previsto per la nomina della eh del revisore o dell'organo di controllo era stata attisata dal legislatore nello scorso sedici dicembre duemila diciannove. Il decreto mille proroghe 2020 di fine febbraio che è stato approvato ha consentito una proroga ha permesso una proroga pertanto oggi la nomina del revisore dell'organo di controllo può essere anche effettuata entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio duemila diciannove. Attenzione che in questo caso gli esercizi da verificare mh al fine del superamento meno dei limiti ehm imposti dalla norma non sono l'esercizio diciassette diciotto come era previsto in corrispondenza precedente terreno ma sono il diciotto e il diciannove. Velocemente eh vi indico anche eh che eh appunto questi nel caso in cui la società ehm abbia nominato i revisori a ridosso della scadenza originariamente previsto del sedici dicembre eh sostanzialmente possono eh trovarsi in una sorta in una sorta di diciamo eh di eh limitazione che comunque quindi voglio precisare è indipendente diciamo dalla dall'effetto e dal fenomeno covid una limitazione consistente eh sulla eh verifica delle dell'esistenza delle rimanenze iniziali di magazzino in assenza di un precedente bilancio revisionato. Quindi revisione non è stato in grado di verificare le rimanenze iniziali e quindi se conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbe essere significativo ma non pervasivo potrà emettere eh un giudizio al bilancio appunto con con rilievo. Eh nel caso in cui invece eh la SRL abbia nominato un sicuro revisore appunto un collegio il collegio sindacale che quindi svolge anche attività di vigilanza qui la limitazione potrebbe eh derivare dal fatto che il collegio non ha potuto eh monitorare la gestione e quindi l'utilizzo di principi di corretta amministrazione da parte della società nel corso d'anno ed evidenzerà questo limite appunto nel diciamo nella propria relazione evidenziando che eh sostanzialmente eh assunto tutta una serie di informazioni dall'ordano amministrativo eh di cui dà conto nella relazione e sostanzialmente appunto senza aver potuto comunque nel 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 corso dell'anno verificare puntualmente le attività posti in essere dalla società. Parlando eh e rimanendo quindi ora e passando eh di cappello e parlando di collegio sindacale eh quindi collegio sindacale eh cosa possiamo aspettarci del collegio sindacale? Quali richieste del collegio? Eh prima di rispondere a questa domanda dobbiamo capire quali sono i doveri del collegio sindacale. Il collegio sindacale prima di tutto deve eh vigilare sul rispetto della legge e quindi ehm è eh ovviamente ovvio pensare che in questi in questi mesi di eh di eh di emergenza sanitaria si sia attivato per verificare rispetto delle prescrizioni imposte dei vari DPCM che si sono via via sosseguiti e per cui in caso di azienda autorizzata ad operare e svolgente un'attività essenziale il collegio sicuramente eh ha verificato e sta verificando rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto del contenimento del del covid negli ambienti di lavoro ai fini della tutela della sicurezza diciamo dei ehm dei lavoratori. Nel caso invece di aziende eh sostanzialmente ehm non autorizzate che ne svolgono attività essenziale che quindi abbiano dovuto sospendere l'attività in quel caso ehm ovviamente eh andrà o ha verificato che gli amministratori abbiano adempiuto alla sospensione dell'attività effettuato le comunicazioni di rito nonché programmato le opportune attività di sanificazione. Quindi ipotizziamo eh che ci vengano chieste tutta una serie di chiarimenti eh su quanto svolto in questo senso e quindi la società deve essere in grado di produrre tutto il dettaglio dell'attività e delle misure poste in essere perché è immaginabile che nella relazione al bilancio il collegio dia un'informativa in merito ai controlli svolti seppur svolti nel corso del di questo del duemilaventi e questo in virtù delle conseguenze che potrebbero emergere in termini di danni e quindi di responsabilità per un messo controllo che potrebbero essere appunto imputati al collegio sindacale in in caso appunto di assenza di eh di controllo. Altro eh compito che aspetta il collegio sindacale è l'adeguatezza e la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Su questo aspetto mi soffermo, ci tengo a soffermarmi perché eh per chiarire eh un aspetto importante eh in quanto il eh decreto liquidità ha previsto dei rinvii eh sostanzialmente all'anno prossimo di alcune norme contenute nel codice della crisi. Ma per quanto riguarda gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, la norma è già in vigore dal sedici marzo dello scorso anno. Quindi dal sedici marzo del scorso anno il nuovo articolo duemila ottanzai del codice civile ha previsto l'obbligo da parte del eh l'organo amministrativo di dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Con la specificazione, e questa è la vera novità, che deve trattarsi di un assetto adeguato a rilevare tempestivamente la crisi, lo stato di crisi dell'impresa e la perdita eventuale della continuità aziendale. Quindi norma in vigore. Quello che è stato sostanzialmente oggetto di proroga dal decreto liquidità è l'avvio degli strumenti di allerta, che vi ricordo essere eh sostanzialmente degli obblighi di segnalazione a capo dell'organo di controllo o del revisore o degli enti pubblici qualificati, agenzia delle entrate, INSS, obblighi appunto di sostanzialmente eh segnalazione all'organo amministrativo in primis ed eventualmente in assenza di risposta a un organismo di composizione della crisi, un organismo appunto esterno eh segnalazione di eventuali situazioni di squilibrio economico finanziario eh rilevabili attraverso specifici indici o o situazioni di eh riterati e ritardati eh pagamenti di fornitori eh e di dipendenti. Quindi tornando all'adeguatezza degli assetti che comunque ricordo gli organi delegati devono adottare, il consiglio di amministrazione deve valutare l'adeguatezza, il collegio deve vigilare sull'adeguatezza, ma quali caratteristiche devono essere, deve avere un assetto organizzativo amministrativo contabile per ritenersi adeguato? Sicuramente deve consentire al management di individuare e misurare i principali rischi che potrebbero compromettere il going concert. Deve essere in grado di eh permettere di monitorare la situazione economica e finanziaria, verificando quindi costantemente la capacità della società di fronteggiare gli impegni finanziari assunti almeno nei sei mesi successivi e deve guidare, orientare le decisioni e le scelte ehm strategiche. E quindi eh ci chiediamo quali sono gli strumenti chiave di un adeguato assetto organizzativo amministrativo contabile ai tempi covid. Sicuramente eh è necessario avere un budget eh risposto un budget 2020 redatto in situazioni di normalità e rielaborato con la previsione dei scenari alternativi e quindi eh che ehm appunto in grado di permettere di valutare tutti eh gli diciamo le eh conseguenze che queste che questo mh che questa pandemia appunto può ehm può avere nella gestione della della società. Ma un ulteriore strumento sì eh assolutamente importante è anche il piano di cassa tesoreria eh redatto con un orizzonte di sei dodici mesi che permette alla società di verificare nel continuo rischio di liquidità e l'adeguatezza o meno del flusso di cassa generato a copertura degli impegni finanziari. E meglio ancora poter disporre di un piano industriale che consideri quindi gli effetti del covid su esempio su ad esempio la riorganizzazione dei costi, di la pianificazione finanziaria, la revisione del business con l'elaborazione di appunto scenari alternativi. Quindi quello che ehm raccomanderei è proprio ehm dare poi ehm in qualche maniera eh dimostrare eh che il CDA ehm che l'ordine amministrativo pone ehm in essere tutte le diciamo le gli strumenti per migliorare o adottare la sede organizzativa e come può farlo? Anche attraverso delle riunioni appunto di CDA in cui si verbalizzi tutte le attività eh poste in essere per appunto eh implementare gli strumenti a disposizione della società che permettano come detto nel continuo di monitorare l'andamento economico e finanziario della società. Eh e questo tutela perché questo ricordo tutela gli amministratori in caso non succederà mai ma ehm ma purtroppo dobbiamo prevedere in caso di default e in caso di default della società appunto l'amministratore può essere in grado di dimostrare che aveva comunque eh posto in essere tutte le eh le previsioni eh per adeguare i propri assetti come previsto dal codice eh dal codice della crisi. Ehm infine eh il collegio sindacale eh è anche come revisore anche lui deve eh sostanzialmente tenuto a verificare che l'ordano amministrativo abbia valutato l'esistenza della continuità aziendale e abbia fornito informativa in bilancio anche se a differenza del revisore non gli spetta un giudizio eh appunto sul eh presupposto della continuità aziendale. Ehm e quindi ehm è importante ehm ci tenevo anche a segnalarmi quindi il fatto che in caso di perdite determinate dall'emergenza covid sui bilancio infranuali e il bilancio al 31 12 2020 ehm viene sospeso è stato il decreto liquidità permesso sostanzialmente di sospendere l'obbligo di ricostituzione del capitale come previsto dai specifici articoli eh del codice civile 2446, 2447, 2482 bis per le SRL. Però attenzione perché eh rimane assolutamente l'obbligo di convocazione dell'assemblea con funzione informativa quindi non per prendere gli opportuni provvedimenti ma per una funzione informativa e di questo il collegio eh dovrà vigilare finché questa convocazione venga appunto eh venga appunto effettuata ed eventualmente dovrà eh lui stesso eh procedere con la convocazione. Di questo aspetto però eh ve ne parlerà più compiutamente il collega l'avvocato Riccardo Carraro eh a cui lascerei la parola. Io ho concluso eh vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. bene eh grazie a tutti eh di essere presenti e oggi ehm vi farò una breve sintesi di quelle che sono le eh le misure adottate dal governo per eh per eh far fronte alla eh situazione d'emergenza in cui ci troviamo e soprattutto per la tutela del patrimonio sociale e la copertura delle perdite eh da covid quindi durante eh verificarsi eh durante eh esercizio 2020 eh nonché con le misure eh che eh possono essere adottate per la tenuta di assemblee e consigli di amministrazione eh data la difficoltà di ehm di spostamento che c'è attualmente. Allora parliamo da una premessa. Come dicevo il decreto cura Italia e il decreto di eh liquidità eh hanno previsto alcune semplificazioni e misure derogatorie alla normativa ordinaria. In particolar modo mi riferisco eh in prima battuta alla modalità di svolgimento di eh consigli di amministrazione e di assemblee. Eh in secondo luogo a eh sospensione degli obblighi di adozione di alcuni provvedimenti eh rilevanti faccio riferimento al ripianamento perdite e infine hanno proviso l'allungamento di alcuni termini come ad esempio l'approvazione per il bilancio. Eh l'hanno già accennato i miei colleghi prima di me ma lo dico fin da subito e poi lo ripeterò successivamente tutto ciò che non è stato spessamente derogato naturalmente rimane in vigore e quindi eh in particolar modo permangono tutti gli obblighi a carico degli amministratori. Eh mi riferisco alle convocazioni dell'assemblea e eh in presenza di perdite e eh del del compimento di tutte le formalità e degli adempimenti prescritti alle regole ordinarie. Eh pensiamo ad esempio eh per la convocazione dell'assemblea ma anche per eh la eh procedura di approvazione del bilancio e faccio un riferimento sul rispetto della tempistica del deposito del progetto presso la sede eccetera eccetera e gli obblighi informativi verso ai soci in caso di perdite eh rilevanti. Allora eh partiamo eh dalle modalità tecniche per la tenuta dei consigli di amministrazione dell'assemblea. Come dicevamo eh il decreto cura Italia eh ha agevolato in qualche modo eh la possibilità di tenere le riunioni nonostante la situazione attuale di difficoltà di spostamento e questo eh viene diciamo agevolato prevenendo la possibilità eh di tenere eh le assemblee eh in modalità eh diciamo alternativa rispetto alla classica eh diciamo con la presenza fisica. In primo luogo è stata concessa la possibilità di esprimere il voto per via elettronica o per corrispondenza anche in assenza di una qualunque previsione statutaria e qui sarà il presidente dell'assemblea ad assumersi la responsabilità di valutare caso per caso quali siano le modalità tecniche eh che garantiscono un'idonea individuazione del soggetto che esprime il voto perché ricordiamo il presidente che si assume la responsabilità della eh decittività di chi interviene e del corretto il corretto svolgimento dell'assemblea. Eh in secondo luogo è stata prevista anche la possibilità di eh tenere eh l'assemblea e il consiglio di amministrazione in teleconferenza anche in assenza di una eh previsione statutaria e eh con tutti i partecipanti collegati eh telefonicamente o in videoconferenza eh senza nemmeno che siano presenti nello stesso luogo fisico presidente e segretario. Questo va contro un po' quello che era stato il principio adottato fino ad oggi eh comunemente cioè che il segretario e il presidente dovessero comunque essere presenti nello stesso luogo fisico eh ciò non toglie tuttavia che poi il verbale dovrà essere sottoscritto da entrambi quindi attenzione poi alla tenuta dei libri perché ci vorrà anche la firma non solo il segretario ma anche il presidente. La sede dell'assemblea eh nel caso in cui il presidente e segretario si trovino in luoghi diversi sarà quella del segretario. Questo lo dico eh in particolar modo perché capita spesso di vedere avvisi di convocazione eh magari scritti anche bene ma che non tengono conto eh del fatto poi che il segretario eh e il presidente saranno in luoghi diversi e quindi poi ci si trova un avviso di convocazione che non che non si parla con il verbale e questo può costituire il problema. Quindi avere l'accortezza eh fin dal momento della convocazione di immaginare dove si troverà il segretario eh presso la sede sociale o in altro luogo perché quello sarà la sede il luogo in cui sarà convocata fisicamente l'assemblea sebbene saranno poi tutti collegati in teleconferenza. Eh inoltre eh sempre nell'ottica di dare maggiori possibilità ai soci di intervento e di espressione del voto è stata eh allargata la possibilità per servizионale di ehm di ehm di ehm tenere le eh eh se vero meglio disperviuere eh il loro voto e quindi assumere le decisioni per consenso scritto anche qualora lo statuto non lo prevede espressione di essere consentito solo se lo stato lo consente. Significa che il sogio si vedrà recapitare questo proprio domicilio un ehn prestampato in cui sarà trascritta la decisione che bisogna assumere e potrà aderire e quindi adottare la decisione oppure non votare in modo sfavorevole. È chiaro che con queste modalità che sono dirette ovviamente a facilitare l'espressione del voto bisogna però prestare molta attenzione all'informativa al socio, soprattutto nell'ultimo caso che ho citato, è chiaro che un socio che può solo esprimere il consenso, il dissenso, una decisione e non può intervenire in un'assemblea, esprimere la propria opinione, chiedere la parola, chiedere informazioni di alcun genere, va informato in maniera maggiore diciamo di quello che si farebbe normalmente per poi evitare qualunque tipo di contestazione, di mancanza di informazione. E l'attenzione per una segreteria societaria accurata dal mio punto di vista è qualcosa che in questa fase va accentuata, perché? Perché per evitare conflitti tra soci o ancora più responsabilità per gli amministratori, ebbene innanzitutto prestare attenzione alle previsioni statuali che non sono state espressamente derogate dai decreti prima citati. Faccio ad esempio riferimento alle modalità, ai termini di convocazione e in generale alla procedura per la tenuta delle assemblee. In secondo luogo la corretta convocazione per il consiglio di amministrazione delle assemblee, come dicevamo prima l'attenzione a prevedere già la sede e a scrivere chiaramente le modalità di collegamento per teleconferenza e naturalmente rispetto delle tempistiche per la convocazione, che nemmeno queste ovviamente sono state derogate, e poi attenzione alla verbalizzazione delle riunioni e quindi anche poi alla trascrizione nei libri sociali. Attenzione a cosa si scrive perché, come dicevano prima di me i miei colleghi, in questa situazione, penso alle decisioni in merito al ripianamento perdite o all'approvazione del bilancio, diventa maggiormente rilevante che cosa si va poi a mettere per iscritto nei verbali per un domani evitare responsabilità degli amministratori. passiamo ora brevemente all'approvazione del progetto di bilancio. L'articolo 106 del decreto cura Italia prevede la possibilità e la facoltà, questa per la società, di applicare il termine maggiorato di 180 giorni per l'approvazione del bilancio, senza l'obbligo di motivazione. Quindi diciamo che il termine di 180 giorni è previsto per la prima convocazione dell'assemblea, naturalmente a ritroso poi ne hanno calcolati termini per l'approvazione del progetto di bilancio a parte del consiglio di amministrazione, il deposito presso la sede sociale e più in generale il rispetto di tutta la procedura prescritta dalla legge che non è stata derogata. Ci si può chiedere se sia opportuno comunque tenere il consiglio di amministrazione interlocutore, diciamo così, in cui si esprime la decisione, il consiglio di adottare la facoltà per la vista della legge del maggiore termine di 180 giorni e magari di esprimere le motivazioni, se ciò non sia necessario, di tale scelta. Dal mio punto di vista non è richiesto per la legge, quindi non è necessario, tuttavia ci sono casi specifici dove può essere a mio avviso opportuno e pensiamo al caso in cui gli amministratori non coincidono con la base azionaria, quindi non coincidono con le stesse persone dei soci e hanno interesse a giustificare il motivo di una loro scelta e quindi della facoltà di adottare il termine di 180 giorni. Allora passiamo al decreto liquidità, che a mio avviso ha previsto la deroga più importante dal punto di vista del diritto societario. Allora, in sintesi si tratta di una sospensione dell'obbligo di ripianare le perdite che si dovessero verificare a causa della situazione emergenziale che stiamo vivendo e quindi disapplicare gli obbligi di adozione di provvedimenti previsti dalla legge che sono, per citarne alcuni, la ricapitalizzazione della società, la riduzione del capitale sociale, lo scioglimento della società, la trasformazione, per consentire diciamo un anno di grazia e aspettare poi che la situazione non emergenziale passi e quindi concedere più tempo per i soci per trovare le risorse necessarie o magari alla stessa società per trovarle. In particolare, quindi, che cosa è stato previsto? Come dicevamo prima, la sospensione degli obblighi previsti dal 1.446 e 1.47 per l'SPA e 2.482 bis e TER per l'SRL di ripianamento immediato delle perdite. Dico immediato perché poi vedremo che la sospensione per le perdite non spariscono, ce le troveremo poi l'anno successivo se nel tuo tempo non siamo riusciti naturalmente a ripianarle. E poi ha previsto la mancata operatività della causa di scioglimento della società nel caso in cui vi siano perdite non prontamente ripianate dai soci. Come dicevo prima, è chiaro che in una situazione emergenziale attuale che stiamo vivendo può rendersi difficoltoso trovare le risorse immediate necessarie per il pianeta e le perdite. Quindi lo scopo delle misure governative è diretto a evitare di costringere i soci a immettere denaro nelle case sociali quando ciò potrebbe non essere possibile nei tempi stretti e allo stesso tempo evitare che le società siano costrette allo scioglimento anticipato ex legge per la presenza di perdite non ripianate. Come detto in apertura dell'intervento rimangono tutti gli obblighi degli amministratori, quindi se il bilancio 2019 non presenta perdite o perdite comunque tollerabili per i legislatori, che sono quelle entro e terzo del capitale sociale, ma poi la situazione si va ad aggravare nel 2020, soprattutto evidentemente per la situazione che viviamo, rimane l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio, significa proprio che parola del codice, significa prontamente l'assemblea, di sottoporre l'assemblea una situazione patrimoniale, economico-patrimoniale, con criteri di continuità che dovrà poi naturalmente essere coerente con quello che è il budget che sarà stato nel frattempo rivisto, e poi sottoporre una relazione sulla situazione patrimoniale. Infine devono gli amministratori dare conto di fatti di rilievo accaduti dopo la relazione della relazione sulla situazione patrimoniale e fino all'assemblea. Ora, vediamo il campo di applicazione dell'articolo 6 del decreto liquidità, quindi che disapplica l'obbligo di impianamento perte. Si applica innanzitutto sicuramente al bilancio relativo all'esercizio che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, ma si applica anche ai bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente a lettrata in vigore del decreto liquidità. Facciamo dei casi specifici, casi pratici da cui poi si possono ottenere alcune conclusioni. Allora, nel caso in cui ad esempio una società presenti un bilancio 2019 in bonus, quindi senza perdite, chiaramente non deve adottare nessun provvedimento, poniamo l'esempio che poi durante l'esercizio 2020 si verifichino perdite rilevanti, quindi maggiori, quindi che erodono tutte le riserve e anche una parte del capitale per più di un terzo. Allora, in questo caso scattano gli obblighi informativi e quindi l'obbligo di convocare l'assemblea per gli amministratori, di sottoporre una situazione patrimoniale e la relazione sulla situazione patrimoniale, ma vengono disattivati gli obblighi di adozione di provvedimenti per ripianare le perdite. Quindi i soci non sono tenuti a ripianare le perdite, quindi rimettere naturalmente liquidità nelle case sociali oppure adottare la trasformazione. Nei casi più gravi faccio referente alle perdite che riducono il capitale di sotto del minimo legato. Nel caso in cui le perdite poi non si siano riassorbite in modo naturale all'approvazione del bilancio 2020, quindi permane una situazione di perdita rilevante o maggiore di un terzo, non è necessario nemmeno in questa sede ripianare le stesse. Si potrà aspettare l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021. Come dicevo prima, le perdite non spariscono e quindi naturalmente potrebbero essere state ripianate dal normale esercizio sociale oppure dall'esercizio della società oppure dagli interventi che sono stati fatti volontariamente e facoltativamente dai soci del frattempo. Poniamo il caso invece di un bilancio 2019 in perdita. Qui operano le regole ordinarie, quindi se una perdita inferiore al terzo del capitale sociale, una volta naturalmente erose tutte le riserve, in questo caso non dovrò far nulla perché il legislatore concede, diciamo, cioè ritiene che la perdita sia non rilevante. In caso di perdite maggiori di un terzo ma che non erodono il capitale sociale fino a portarlo sotto il minimo legale, potrò sempre per le regole ordinarie aspettare un anno e quindi portare le perdite a nuovo, quindi aspettare l'approvazione del bilancio 2020 per verificare se le perdite si sono ripianate oppure dovrò fare gli opportuni provvedimenti. Una volta arrivato all'approvazione del bilancio 2020 avrò comunque in questo caso l'applicazione della normativa derogatore, quindi avrò un secondo anno di grazia che è il 2021 e quindi portarmi le perdite che avevo nel bilancio 2019 fino all'approvazione del bilancio 2021. Parlo di perdite che però non erodono capitale fino a portarlo di sotto il minimo legale. Se invece ho perdite che portano il capitale sociale al di sotto il minimo legale, dovrò immediatamente adottare gli opportuni provvedimenti nel senso di avere ordine ordinarie. Nel caso in cui invece io poi adotti i provvedimenti e quindi vado a ripianare le perdite nel 2019, se nel 2020 si verificano ulteriori perdite rilevanti, quindi oltre il terzo capitale, avrò tutti gli obbligi, come ho detto prima, i formativi, i convocazioni dell'assemblea, viste a carico degli amministratori, ma non sarò attenuto all'immediato ripianamento delle perdite e potrò attendere fino all'approvazione del bilancio 2021. Faccio un breve passaggio anche sull'articolo 8 del decreto liquidità che sempre nell'ottica di favorire i soci in questa fase critica che stiamo vivendo, ha previsto la sospensione della norma che prevede la postergazione dei finanziamenti soci rispetto ai finanziamenti di soggetti terzi. Allora partiamo dalla norma ordinaria. Il condice civile vuole evitare la sottocapitalizzazione delle società e quindi evitare una situazione di squilibrio tra il capitale di rischio e il capitale di debito. Vuole quindi disincentivare i soci ad effettuare finanziamenti ai soci piuttosto che avversare liquidità nelle casse sociali come sotto sezione di capitale sociale. E per far questo, dotato il principio della postergazione dei finanziamenti soci rispetto ai finanziamenti di terzi. Quindi i terzi saranno privilegiati. Questo naturalmente però disincentiva disincentiva in qualche modo i soci ad effettuare i finanziamenti a favore della società e, sempre come dicevamo prima, nell'ottica di agevolare invece l'introduzione di liquidità in casse sociali, il legislatore ha previsto la sospensione fino al 31-12-2020 della posteriazione. Un ultimo spunto riflessivo mi viene da queste due previsioni a mio avviso molto rilevanti, che sono da un lato, come dicevamo, la sospensione dell'obbligo di ripianare le perdite e dall'altro lato la sospensione della postergazione del finanziamento socio rispetto al finanziamento di tempo. E' chiaro che sono norme che vanno a favore dei soci, ma che possono avere un riflesso sulla tutela dei terzi. Perché? Perché i terzi fanno affidamento normalmente a quello che è il capitale sociale e all'effettività dello stesso, significa che non vi siano perdite, che lo stesso non venga eroso dalle perdite sociali, mentre per il 2020 non potranno essere così. E quindi, ponendoci dall'altra parte per un momento, quindi a contrarre con un soggetto, con una società, durante l'esercizio 2020, vi consiglio di prestare particolare attenzione alla solidità, alla solvibilità del lente con cui stiamo magari sottoseguendo un contratto, per evitare poi di fare affidamento su un capitale che potrebbe non essere effettivo. Bene, il mio intervento è chiuso e passo la parola al collega Angelo Gozza. Allora, se la regia mi dà l'ok, possiamo andare avanti. Buongiorno a tutti, qui vedete il titolo del mio intervento. Prevenire rischi di reati nelle valutazioni e svalutazioni di bilancio in contesti di crisi. Quindi parliamo evidentemente di attività di prevenzione in illeciti penali e, come vedrete, si tratta di temi che, prima battuta, possono apparire dei temi che non riguardano immediatamente, nell'immediato, gli interessi di sopravvivenza, tante volte, delle aziende in questa fase. Ma sembrano apparire così dei problemi a lungo termine, in ipotesi di procedimenti penali che potranno partire anche tra i X anni. Ma in realtà si tratta, come vedrete, andando più avanti nella trattazione, di questioni che vanno trattate adesso, con urgenza, perché hanno una ricaduta immediata, anche nella possibilità di ottenere finanziamenti, finanziamenti previsti dal decreto liquidità. Qui vedete la scadetta dell'intervento. Stiamo parlando di attività, sì, di risk management, cioè della possibilità di evitare oggi rischi di contestazione in futuro, quando sarà passata la pandemia. Con particolare riferimento, evidentemente parliamo di bilancio, quindi di reato, di falso bilancio, con attenzione alle valutazioni e svalutazioni. Naturalmente parliamo di valutazioni che devono essere calate nello scenario ante Covid-19. E con l'attenzione, come abbiamo visto nell'intervento prima di Paolo De Moria, a quella prudenza e ampia informativa che deve caratterizzare l'applicazione dei principi contabili, in particolare nelle valutazioni di bilancio, aggiungiamo adesso, anche per evitare il rischio della falso bilancio del reato. E poi vedremo anche un altro aspetto, finora poco evidenziato, anche se forma oggetto del titolo in prima pagina di un giornale di Italia Oggi, che c'è il rischio di bancarotta nel caso di accesso ai finanziamenti agevolati del Fondo Garanzia Piccole e Medi Imprese o Garantieri da Sace. Ma procediamo per ordine, partiamo innanzitutto dal rischio del reato di falso bilancio, che attiene in questo momento in particolare a questa fase complessa di provazione e redazione e pregazione del bilancio 2019, in una stagione di bilancio che non è mai stata così prolungata e neanche così complessa, tanto che viene in mente il titolo di un film recente, La Tempesta Perfetta, perché se ci fate caso abbiamo la concomitanza di tanti elementi singolarmente presi già di eccessiva difficoltà e limite nella possibilità di svolgere al meglio il lavoro da parte di tutti coloro che sono interessati, coinvolti nella fase di redazione e approvazione del bilancio. La Tempesta Perfetta quindi per i consigli di amministrazione, per i collegi sindacali, per i revisori, per i CFO, perché da un lato abbiamo il lockdown, quindi questa limitazione negli spostamenti che crea difficoltà, dall'altro lato abbiamo questo scenario economico così complesso ed in certa evoluzione, e poi ancora abbiamo questa normativa emergenziale che si è succeduta in pochi giorni, un incidente in maniera importante, abbiamo visto anche nelle tecniche di redazione dei bilanci, e a tutto ciò si aggiunge appunto il rischio penale di sbagliare incorrendo in sanzioni penali. Partiamo dal reatto di falso in bilancio, questo è il testo attualmente vigente dal 2015 e che ha portato ad una nuova fase nell'applicazione di questa fattispecie penale che in passato avevamo accantonato, quasi dimenticato. Oggi, nel 2015, i possibili imputati sono innanzitutto gli amministratori, però già la norma ci dice anche i direttori generali, i dirigenti per fosse la redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i guidatori, quindi una vasta schiera. Poi, in base alla direttoressa, vengono coinvolti in concorso anche i consulenti, quindi c'è questa possibilità estesa di essere coinvolti. E qual è in concreto la condotta? Quella di avere innanzitutto uno scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto e cosa succede? Che gli amministratori, nei bilanci, in mano soltanto, nelle relazioni, qui si fa riferimento innanzitutto alla relazione di accompagnamento con l'importanza che si svolge in questo reato, in generale in tutte le comunicazioni sociali dirette ai social, pubblico, previste dalla legge, gli amministratori, i direttori generali, eccetera, cosa fanno? Consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero oppure omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è prevista e imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. In questo caso, la sanzione è questa, la posizione con la pena della reclusione da uno a cinque anni per le società quotate, le loro holding, la sanzione è ancora importante. Ci sono anche le sanzioni accessorie che sono date dal divieto temporaneo di esercitare l'attività da parte di manager, in caso di condanna o di proteggiamento abbiamo la confisca del profitto del reato e poi, in qualcosa che spaventa molto di fa impresa, già nella fase delle indagini preliminari, queste misure cautelari che sono date dal sequestro, sequestro preventivo del profitto del reato o addirittura per equivalente, quindi di un importo corrispondente al profitto del reato. Il previgente assetto normativo era del 2002, che da più parti veniva ritenuto inadeguato, tanto che molti erano ormai convinti che fosse stato interrogato in Italia il falso del minaccio. Esisteva la norma, ma era di applicazione molto limitata, quindi interviene il legislatore e dal 2015 vengono eliminati tutti quegli elementi che si ritenevano di fatto un ostacolo applicazione della fattispecie, quindi le soglie di rilevanza penale, il dolo intenzionale di ingannare, l'evento danno diventa un reato di pericolo e la procedibilità d'ufficio, quindi non occorre più una coerela, ma un pubblico ufficiale che viene a conoscenza del reato fa partire il procedimento. Allora, fatte queste premesse, ma in maniera molto breve, quali sono le conclusioni nel vissuto quotidiano della cronaca giudiziaria? Abbiamo già avuto delle manifestazioni di una crescita, di un incremento dei procedimenti penali per farlo in bilancio o possiamo immaginare che arriverà negli anni a venire? Ebbene, a questa slide già, a queste immagini, ci rendiamo facilmente conto che i procedimenti penali per falso in bilancio ce ne sono tanti, questi sono solo alcuni casi clattanti dell'ultimo periodo, dell'ultimo anno, ma ce ne sono decine diffusi in tutto il territorio nazionale, quindi si tratta di un reato che è tornato a vivere, sono arrivi di scienza del falso in bilancio che occupa le procure in giro per l'Italia. E per quello che ci interessa oggi nella redazione dei bilanci e nelle poste alle quali occorre fare attenzione in questa fase emergenziale e con l'attenzione dovuta al dar riscontro, come abbiamo visto, nelle relazioni del compagnimento anche a evoluzioni del quadro economico per quanto si tratti di approvazione in un bilancio che riguarda l'anno passato, l'aspetto più interessante che viene dall'ambito penale è che tutte le stime e le valutazioni che sono una gran parte del contenuto di un bilancio assumono per la giurisprudenza, per la cassazione penale, rilevanza penale. Questa è una massima fondamentale della cassazione assenzione a metà del 2016 in cui in maniera sintetica i giudici ci dicono che se stiamo parlando di valutazioni in bilancio, stime in bilancio, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati, quindi leggiamo i principi i criteri fissati dal codice civile e in presenza di criteri tecnici generalmente accettati, quindi qui dobbiamo leggere i principi OIC, IAS, la gente che da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa e in modo concretamente idoneo per indurre in errore destinatari delle comunicazioni commette il reato, quindi è fondamentale l'elemento soggettivo essere consapevoli che ci si sta discostando dai principi contabili e non se ne dà adeguata informazione giustificativa, di cui come diceva prima Paolo l'importanza della contenuto nelle relazioni di accompagnamento e bilanci. Il nucleo centrale di questa sentenza delle sezioni uniti della Cassazione, che è un caposaldo della giurisprudenza penale di questo settore, è che le scienze contabilistiche appartengono al numero delle scienze a ridotto marchio di opinabilità e le valutazioni non sono libere ma vincolate normativamente tecnicamente. E questa è una forzatura da parte della Cassazione che fa sobalzare sulla sede a chi professionalmente si occupa in maniera quotidiana della relazione dei bilanci perché è evidente che non tutti i principi contabili, non tutti i criteri di contazione possano essere definiti in maniera così, trascianti, chiari, dettagliati, pensate che sono tanti principi contabili in materia di derivati. E anzi è noto che l'applicazione dei principi contabili è spesso un'attività molto complessa con margini di discrezionalità, opinabilità, tanto che non si può parlare neanche in assoluto di un bilancio vero quanto piuttosto di un bilancio verosimile dentro un certo margine. In questo senso, d'altra parte, la stessa Cassazione con una sentenza successiva ha fatto un po' un marce indietro assumendo che bisogna forse il problema del grado di dettaglio dei criteri, dei principi contabili, quindi non sono tutti uguali, alcuni sono particolarmente dettagliati e chiari, univoci, tali da escludere incertezza interpretativa e questi allora siano davvero una forza cogente. Ora, torniamo un attimo indietro, abbiamo detto che tra le novità del falso bilancio dopo la riforma del 2015 è il fatto che si tratta di un oracolo rilevabile d'ufficio della querela. Questo significa che nel caso immagurato di un default aziendale, quindi un fallimento, i curatori fallimentari che agiscono in qualità di pubblici ufficiali sono tenuti, in base alla legge, a fare una segnalazione, a denunciare il reato di falso in bilancio. Questo è un preciso dovere di legge, quindi nel caso in cui non dovesse fare un corretore fallimentare sarebbe lui stesso a commettere un reato, ci sarebbe un messa a denuncia. Quindi la previsione della procedibilità d'ufficio del nuovo falso in bilancio comporta l'obbligo di denuncia qualora la falsità emerga nel corso di una procedura concorsuale. Allora colleghiamoci ai bilanci 2019. Qui abbiamo una criticità importante con un rischio penale legato proprio alla necessità da un lato per le aziende che vogliono ottenere, avere finanziamenti previsti dal decreto di liquidità di enfatizzare il metodo creditizio nella trovazione del bilancio 2019 attestando la certa continuità aziendale antepandemia naturalmente per il periodo 2019. Dall'altro lato c'è il rischio che poi in caso di successivo di sesso del default potrebbe poi essere contestata la veridicità del bilancio 2019 e qui evidentemente il rischio penale diventa importante. Ora tenete presente che la garanzia del fondo per le piccole e medie imprese rientra nell'alveo più ampio dell'intervento di sostegno pubblico alle imprese che sono disciplinati da una disciplina di settore in maniera sintetica a quello che ci interessa e che tutte queste misure agevolative consigliscono un credito privilegiato per lo Stato. Quindi cosa succede nel caso in cui nonostante l'accesso al finanziamento l'impresa non riesca a superare la crisi e sopraggiunga il fallimento. È evidente che qui si avrebbe una lesione della cosiddetta par condicio creditorno quindi tutti i creditori sono uguali al debitore devono essere tutti soddisfatti allo stesso modo ma questo significa anche che può esserci una gerarchia dei creditori quelli privilegiati che stanno su nella piramide rispetto a quelli chirografari e questa ovviamente questa gerarchia va rispetta altrimenti si ha il reato di bancarotta preferenziale quindi quando il debitore soddisfa debiti ad esempio i pagamenti fornitori che non sono privilegiati e non residisce il finanziamento che invece era privilegiato. Allora potrebbe verificarsi questa sequenza. La garanzia rilasciata dal fondo, fondo piccole e medie imprese, sarà esclusa dall'istituto di credito. L'escursione della garanzia comporterà l'automatica surroga del gestore del fondo e quindi avremo che il gestore del fondo che ha la garanzia si troverà nella posizione di creditore privilegiato quindi pensiamo a medio credito centrale oppure SACE ai fini della restituzione del finanziamento. A fronte del pagamento dei debiti correnti dell'attività di impresa quindi le fatture dei conditori sarà inevitabile un sacrificio del credito privilegiato dello Stato alla restituzione del finanziamento. Ora nell'ipotesi di successivo del fondo alla società il gestore del fondo medio credito centrale si insionerà nella procedura concorsuale e il curatore fallimentare come abbiamo visto prima sarà tenuto obbligato per legge a segnalare alla procura la condotta dell'amministratore come eventuale ipotesi di bancarotta preferenziale. Allora una volta assunta consapevolezza di questo operare rischio penale cosa possono fare gli amministratori per abbatterlo? Qui il focus, la tensione va posta sull'elemento soggettivo del reato. La giurisprudenza penale per Cassazione è super consolidata nel richiedere perché sussista la bancarotta una volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto con l'accettazione dell'eventualità di un danno per gli altri. Tradotto in maniera più semplice questo significa che il reato non si configura se i pagamenti sono effettuati nella prospettiva di assicurare la continuità aziendale. Quindi questo è il passaggio cruciale se i pagamenti viene dimostrato che sono effettuati nella consapevolezza della irreversibilità del disesto evidentemente si potrà avere reato. Mentre se questo elemento viene dimostrato non sussistente in base a elementi oggettivi allora si può dire che l'imprenditore, l'amministratore poteva verosimilmente confidare sulla ripresa dell'attività economica e quindi su questo va fatto tutta una verifica sull'assenza di indici di cresci, bisogna fare attenzione al rating di medio credito centrale, bisogna vedere, controllare, rivedere i clienti di tesoreria, monitorare gli adeguati assette organizzativi, contabili, amministrativi e tutta un'attività di dirigenza e di risk management fondamentale per evitare di incorrere in questi rischi. Ora in sintonia con la razza delle norme emergenziali è chiaro che non possono accedere al finanziamento garantito, le imprese abbiamo visto che erano già decotte, già prima della fase Covid, già prima di febbraio di quest'anno, ma allo stesso tempo non può restare in vita un finanziamento agevolato, garantito dallo Stato per un'impresa che poi comunque durante la vita del finanziamento si trovi in una fase prossima al default. Quindi la sostenibilità economica dell'attività d'impresa va accertata in due momenti, nella fase di presentazione della domanda di finanziamento in relazione al periodo antepandemia, quindi deve risultare la continuità aziendale nella fase pregressa e poi nel corso del finanziamento, quindi anche durante gli anni di vita del finanziamento, in quanto l'ha sopravenuta consapevolezza dell'impossibilità di proseguire l'attività senza incorrere un dissesto, comporterebbe di cosa? L'impiego del finanziamento rivolto dello Stato a favore di un'impresa decotta, anziché confluire su una impresa più meritevole perché sarà poi in grado di autosostenersi. Quindi di solito rabbattere il rischio di contestazioni penali, occorre la massima cura e prudenza nell'informativa rilasciata dalla banca finanziatrice e ci chiederà tutte le notizie utili per una valutazione del medico creditizio e poi occorrerà predisporre una reportistica sull'andamento economico per la fase successiva in maniera tale da attestare poi questo in maniera previsionale per tutta la fase successiva. è un'attività di risk management complessa, importante perché di sicuro viene apprezzata da tutti gli stakeholders, dai soci, la banca innanzitutto e consente di prevenire la consumazione dell'elicito penale ma soprattutto poi anche di escludere la colpevolezza degli amministratori nel caso in cui dovesse partire un procedimento penale. Il tema, qui torno all'inizio del mio intervento, sembrano temi proiettati avanti nel tempo, proiettati ad una fase eventuale futura di contestazione penale. Invece sono dei temi di grandissima attualità perché in questa fase di richiesta dei finanziamenti proprio questo rischio penale diventa fondamentale nell'accesso al credito. Questo perché in passato tante volte le banche e gli istituti di credito sono stati coinvolti per concorso nel reato di bancarotta delle imprese finanziate e quindi c'è la massima attenzione e prudenza, una super prudenza da parte dei funzionari delle banche nel prevenire questo rischio penale. Per questo motivo occorre apprezzarsi anche in questa direzione in maniera tale che le domande di finanziamento abbiano una procedura accelerata e si eviti anche il rischio di una revoca poi successiva dei finanziamenti. Per questo motivo ci siamo anche organizzati con un team multidisciplinare perché qui occorre mettere insieme esperti aziendalisti, esperti di finanza e contabilità, tributaristi e penalisti e in qualche modo possiamo anche contare su un know-how specifico avendo assistito due istituti di credito nazionali nel fissare proprio le linee guida prudenziali nella erogazione del credito dei finanziamenti previsti dal decreto liquidità. Però adesso passo per le conclusioni a Paolo Demori. Grazie, spero, vediamo che si veda nuovamente la presentazione. Io ho una slide finale con la quale voglio salutarvi. Sì, allora grazie a tutti coloro intanto che hanno avuto la pazienza di rimanere fino a qui. Io mi unisco, ho due slide sulle quali volevo attirare la vostra attenzione finale e mi unisco alle ultime riflessioni di Angelo. Io credo che qualcuno oggi ascoltando queste nostre riflessioni abbia detto già abbiamo un periodo difficile, ci avete fatto un webinar su dei temi di responsabilità, di documentazioni, di informazioni, devi avere, devi fare, eccetera, eccetera. E come sempre possono apparire pesanti e come dire, dei sovraccarichi in questo momento. Io ci tengo a invece enfatizzare una cosa, cioè in momenti come questo, però al pari di momenti in cui le cose vanno bene, in cui ho un evento esterno che mi impatta in un certo modo sul mio mercato, sulla mia finanza, sulle mie valutazioni, sulla continuità, sui miei dipendenti, sulla salute, eccetera, eccetera. E io come amministratore e come responsabile, ma come dirigente, lo ha ricordato Angelo, ho delle responsabilità specifiche su questi temi, purtroppo fa parte del mestiere di imprenditore da un lato, ahimè, e di manager dall'altro. E sarebbe paradossale in un momento di questo tipo, in cui ci si sta tutti dando da fare in un certo modo per superare situazioni di questo tipo, che si trascurassero poi degli elementi di responsabilità. Perché la percezione in questo momento è che valga un po' tutto grazie al momento difficile. Purtroppo alcune norme sono scritte lì, purtroppo le norme sulla crisi intese come le norme che vanno a sanzionare comportamenti di default sono di un certo tipo e quindi confidare che il diritto in questo periodo vada in letargo e nessuno si ricordi più di certe cose, ce lo auguriamo tutti, ma potrebbero essere così. Qual è l'altro focus, a mio avviso, importante sul quale voglio concludere? È chiaro che tutte queste richieste, i sindaci mi chiederanno, i revisori mi chiederanno, dovrò fare le situazioni patrimoniali, dovrò fare le condizioni economiche, dovrò fare i flussi di cassa, cose che mi servirebbero anche se io sono virtuoso, rendono chiaro che disporre di un certo tipo di informazioni è essenziale sempre, è assolutamente sempre essenziale e questa capacità di produrre dati immaginate cosa verrà fuori quest'anno quando dovrò dire come ho speso i soldi che mi ha dato gli aiuti pubblici, cosa ho fatto per i dipendenti, come dividerò il conto economico che ne so fino a maggio auguriamoci dove andrò magari a congelare quello che è stato un effetto covid da quello che può essere un effetto dopo, a qualcuno immaginiamo già chiedere un bilancio a giugno, vero, non quattro numeri vorrà dire oddio dottore devo predisporre un bilancio, sì perché sarebbe normale disporre di bilanci trimestrali, sarebbe normale disporre di flussi di cassa aggiornati, sarebbe normale poter avere capacità di prevedere quello che avviene. Allora su questo aspetto, cioè quello di dotarsi di un certo tipo di strumentazione, torno perché lo vedete è alla fine un elemento che faciliterebbe anche in una situazione di questo tipo quello che oggi ci viene chiesto. Allora solo se io dispongo e ho investito per tempo in una certa capacità di disponibile informazioni e di avere dati tempestivi, strutturati, affidabili evidentemente con della strumentazione, solo in questo caso io riesco a comunicare poi all'esterno e a usare le informazioni quando servono. In un momento come questo in cui il mio patrimonio di... io devo salvaguardare il mio capitale di credibilità, devo salvaguardare ciò che so fare bene, devo comunicare al mercato oggi e domani quello che so fare a a prescindere dal covid e per farlo devo disporre di informazioni. Chiudo con... perché torno lì, se non lo faccio è una responsabilità dell'amministratore. Allora questa cosa da tentacoli pressoché illegibile dove io metto in mezzo adeguati assetti e poi ai margini di questi tentacoli ci sono tutta una serie di informazioni che sono quelle che vengono prodotte nell'ambito ad esempio appunto di un adeguato assetto che è in grado di propormi strumenti di pianificazione, strumenti di analisi a consultivo e invece in prospettiva, è in grado di produrmi informazione per l'organizzazione, è in grado di produrmi rating dati analitici. Se nella vostra azienda siete in grado di mettere una spunta su queste cose, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, anche tutte quelle richieste in questa fase e le necessità in questa fase allora assumono un significato diverso. Se io a tutte queste cose dico io non ce le ho, è chiaro che l'incontro di oggi è un gran mal di testa perché evidentemente mi rendo conto di come il 2020 che già si porterà i suoi problemi si caricherà di ulteriori tematiche da mille parti. Allora chiudo invece con un messaggio di speranza, io credo che siamo abituati a lavorare in un certo modo, tutti per fortuna in Italia e qui nelle nostre zone e credo che ci rimboccheremo le mani in una certa direzione. Facciamo, approfittiamo di questo momento per fare un passo avanti anche rispetto a certi a certi requisiti e a certi strumenti. Se ci fosse qualche richiesta di informazioni trovate i nostri riferimenti, ricordo ancora la settimana prossima i due webinar che abbiamo organizzato, ringrazio nuovamente tutti per la pazienza, vi abbraccio e ad una prossima occasione. Grazie.